E' il posto da dove sono partiti tutti i nostri sogni! Tra quanti giorni ci rivediamo? Ci sono delle cose molto belle che non siamo riusciti a vedere. E' un bambino senza padre, tuo figlio. Aiutami a conoscere. Tu stasera non usci, manco per il cazzo. Io prima o poi ripagno, per far che? Per coltivare il caffè in Brasile. Perché ti sei fumato? Non è successo qualcosa con lui. Ma tu pensi che mi amerei mai come amato lei? Io non ho mai visto nessuno divorzare in questo modo. C'è una bambina di me, Sam. Dai, va, ti parmi, non è la bambina. Io non posso più stare con te. C'è un'altra persona che mi piace. Adesso questa stronza che io pensavo fosse la donna della mia vita mi ha mollato per un altro e se n'è andata. Che cosa devo fare? Ma scusi, se lei è sicuro di averle dato al massimo, perché se la prende tanto? Io l'ammazzerei. L'ammazzate! Ammazzate! Ma che state a fare? Tranquilla, ma tutto a posto. Stiamo a fare una volta. Ma non è il mio caffè! Sto a pagarlo con mia moglie! E per chi mi hai frequentato per tutti questi rizi, eh? Perché ti amo. Io ti amavo più di qualsiasi altra cosa al mondo. La vita non ci dà sempre le cose come noi le vogliamo. L'importante è che ce le dia. La vita non ci dà sempre le cose come noi 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 le cose